Ok, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Mi trovate, anzi ci trovate Già in tenuta da Fashion Week Perché ci hanno dato le magliette Ora vi faccio vedere Tutte pronte, ci sta dando le magliette Thank you Ora andremo in postazione makeup, in postazione capelli Vi farò vedere tutto E mi raccomando seguite tutto il video benissimo Perché questa sera andremo al ponte di Brooklyn Quindi vi porterò anche lì Se non avete visto gli altri vlog della Fashion Week Vedeteli E se non siete iscritti Iscrivetevi al canale Siamo in gli studios Postazioni makeup stanno truccando le modelle Guardate, l'ho più vicino Wow Eccoci alla parte dei capelli Vi faccio vedere un po' al volo Stanno acconciando tutte le modelle Wow Stiamo spacchettando tutti i vestiti Guardate questi che belli Pronti poi per essere indossati dalle modelle Perché venite con me Alle 10 ci sarà qui Quindi la prima sfilata La nostra supervisor ci ha portato le ciambelle Che buone Guardate il look Con la Chanel Con la Chanel You're so beautiful Stiamo per iniziare la sfilata Siamo pronte per la prima sfilata Ecco le modelle Lei sta finendo di truccarsi E questo è l'outfit E questo è l'outfit di punta Primo show Ecco tutte le modelle Pronte Guardate che bello Questo E ora Riusciranno a sfilare Altra sfilata Spena finita la prima sfilata Abbiamo fatto anche il cucino Un vestito Mi ero anche chiesto E i pareri È tutto a presto E adesso partiamo con le prossime Guardate quante persone Vestite bene Stanno aspettando Per vedere la nostra sfilata A noi ora con il pass Entreremo subito E torniamo Nel backstage La sfilata procede E certo che stare con questa vista qua È veramente Stupendo Ora sfileranno gli abiti da sposa Guardate questo Qui è tutto pronto Stanno iniziando E poi anche loro In questa collezione qui Guardate che sfigata Poi loro con i cappelli E poi abbiamo finito Stanche morte Ma siamo pronte per andare Prima cena E poi al Sì vabbè Siamo stanche morte Ma siamo pronte per andare Prima cena Rigorosamente da McDonald's E poi andiamo Al ponte di Brooklyn Questi sono i nostri outfit Siamo matchate più o meno I cargo Tutta la vita di Bershka E poi borsa Barbie Let's go Abbiamo preso il MAC post sfilata Proprio su Times Square Guardate che meraviglia Guardate che meraviglia E ora andiamo lì Dove c'è il ponte di Brooklyn Oddio non è bianco Ed eccoci arrivate sul ponte Che vista pazzesca Ora ci facciamo Tutta la Camminata Stiamo tornando All'hotel Spero che il video vi è piaciuto Che ho portato il commento Tutti i giorni mi faccio un link Ricordate tutti i video Che non avete visto E noi ci vediamo al prossimo Grazie